E soprattutto il piacere di conoscere il feedback, le vostre impressioni su questa, tra virgolette, procida capitale della cultura per l'anno 2002. Noi siamo andati due volte e tutti e due i voti abbiamo trovato una città un po' sporchina, un po' non molto preparata e quindi il piacere di sentire le vostre opinioni che sono importantissime in quanto una gentile nostra socia, che adesso non vedo ma che siamo in contatto, è stata la docente all'istituto nautico di procida del sindaco. E quindi al primo approccio, quando siamo andati, abbiamo fatto una cerimonia di scambio di libri e opinioni. E quindi con le vostre opinioni e con queste immagini messe a disposizione dal professore Luigi Russo vorrei preparare un documento di rispetto, di risposta e di rispetto a questa procida capitale. C'è qualcuno di voi che ha qualcosa da dire? Vi anticipo, per esempio, tra di noi c'è stata la signora Pisco, che adesso qua ancora non vedo, la quale è stata docente di tecnica del turismo per 30 anni in un istituto napoletano. Il giorno dopo la visita a procida mi ha mandato un video con una serie di immagini e un filmato che mi mostrava questa cittadina non pronta sotto l'aspetto ricettivo e accoglienza per il pubblico. Questo piccolo video io, insomma, l'ho fatto mio, l'ho fatto nostro e lo allegherò insieme a qualche altro documento eventualmente scritto. Grazie Carla. Io l'ho trovata molto più pulita di quando l'ho vista negli anni addietro. Negli anni addietro era proprio abbandonata, assolutamente. Ma l'ho vista molto più organizzata di qua. Luicina, il tuo parere è un applauso. Ricordo che c'è stato Giovanni Accarino. Un piccolo grande applauso perché siamo riusciti a fare un passo avanti. Mentre lo scorso anno avevamo a disposizione questa sala un martedì sì e un martedì no, per questo anno accademico, fino a giugno 2023, dietro indicazioni sue dirette, abbiamo presentato al Consiglio Comunale la possibilità di essere qua tutti i martedì in un orario compreso dalle 3 alle 19. Quattro ore che probabilmente riusciamo a organizzare anche dei corsi. Due dei docenti si sono fatti. Giovanni, ti ringrazio a nome di tutti questi. Come si può rispetto a una realtà che è un'eccellenza della nostra città? Per un motivo, soltanto una limitazione legata a spazi che sono in ristrutturazione, come negare altri spazi che se punti competenza di altri settori non possono mai essere disponibili. Lo scopo è questo. Vi chiedo ancora un altro anno accademico di pazienza, di apparenza relativa, però è lì che l'ultimo anno che siete qui a centro funzionale, così possiamo far vedere tutta la penezza anche ai nostri giovani e restituirvi gli spazi che meritate nel centro culturale di Via delle Rose che mi auguro e sono convinto, sono sicuro, che per l'anno prossimo sono nuovamente disponibili a tutti quanti voi e restituite quegli spazi alla cittadina. Bene, grazie Gianni. Intanto il signor vise sindaco Giovanni Accarino non è solo un fiancheggiatore supporter nostro, ma è anche colui quale con una idea geniale, Borghi e Casal, si è inventato una manifestazione che ci porterà in giro per tutta piano, preceduto da una passeggiata in un luogo particolare non frequentato ad alta frequentazione turistica, diremmo per utilizzare un linguaggio super tecnico e che finisce con una piccola piesa teatrale. In questo contesto, strutturato su una decina di appuntamenti in cui visiteremo dei casali di piano di Sorrento da Trinità a Sant'Acosti, è stata inserita anche l'Uni 3. Quindi Ambrogio e Sisa con le loro piese teatrali che sono quello che è rimasto del laboratorio teatrale dell'Uni 3 che avevamo nella biblioteca. Ci diamo appuntamento per domenica 18 ottobre a Sant'Acosti, ma intanto la manifestazione è già parte, come domenica, in quanto benedì, venerdì sera, iniziamo partendo dai colli, è qualcosa che diciamo per, tra virgolette, destagionalizzare, ma la cultura non va mai in vacanza, nel senso che l'estate ha avuto il suo richiamo necessario per gli ospiti e per i cittadini. Però c'è un motivo adesso di riscoprire un po' le nostre, la nostra, in realtà, di riscoprire anche i nostri fortuni. Ci sono persone che abitano, non incondominiano, la fortuna di vivere in casali, in borghi, in cortili, corti, che sono bellissime, che vanno valorizzate. Io ringrazio anche questi privati, che hanno aperto poi, con fiducia, visto i tempi che corrona, anche le porte della loro casa, ce l'hanno messo a rispondere. Billerichetta, per esempio, l'unica masseria con torre che abbiamo qui sotto, sotto San Liborio, aprirà il fortuna, un bellissimo, è grande, riesce ad accogliere la piesa teatrale, che in quel caso là, la terrà, la chioma. Noi invece andremo in quello che addirittura è sconosciuta, è rimasta solo la chiesetta di Sant'Agostino, che era affiancata da un monastero di Sant'Agostino, di primi approcci, l'abbazia di Sant'Agostino. Sindaco, ma come ti è venuto? Di bullare sul territorio. Dove sta la genialità? Tanti diversi luoghi, oggi abbiamo appuntamento alla parte, ma soprattutto tante maestranze locali, cioè dare il microfono a attori semiprofessionisti amatoriali nei vari punti, quindi sono tutti i cittadini, barattoli cosmici apriranno a Castello Colonna, vicino alla Cappellina di San Pietro, che tutti conosciamo, tutti sappiamo che sta là, però ci manca l'occasione per poterci andare, magari c'è un po' di tali, però non conosciamo la Cappellina di San Pietro, quindi una bella iniziativa della Cappellina, ma questa cosa... La valorizzazione dei borghi, di tutti gli aspetti... A me non piace parlare di borghi, forse più correttamente di Casale, perché i borghi sono morti a loro, e né tanto meno parlare di periferie, perché le periferie attengono più alle grandi società, e con tutte le problematiche ad esse come ad esse. Parliamo di borghi e Casale, però devo dire che questo nasce sul gioco di squadra, perché noi abbiamo, proprio per un'attenzione che dovrebbe andare anche al di là dell'aspetto culturale e di valorizzazione che attiene, come anche ad un'ordinaria amministrazione di gestione della polizia, del verde, di un discorso ambientale dei posti, però proprio per noi abbiamo, la nostra consigliere vuole, mi fa piacere perché è un gioco di squadra, che è Caglia Veniero, che è delegato all'aspetto di queste problematiche. Però noi abbiamo fatto un tavolo, già da diversi mesi, insomma, da non soprappone a quelle delle iniziative estive, di questa bellissima iniziativa per lo sport che abbiamo fatto con i bambini delle scuole, che ha avuto un grande risalto, e quindi con lei, con Luigi Acherino, con gli amici della Proloco, siamo seduti per fare questo, questo discorso di valorizzazione del nostro, del nostro, dell'estate, noi la lasciamo anche ospite di una dimensione, sicuramente turistica, ma anche per i locali. Se no, noi abbiamo il momento di ritrovare la nostra identità, il nostro essere, attraverso queste iniziative. Allora, ci portiamo con questo, voi ho un'altra iniziativa per ridottare i 23 novembre, che è il momento, diciamo, drammatico del territorio, che abbiamo vissuto, soprattutto a Piano di Sorrento, con dieci porti, quindi faremo una celebrazione di questi, però ho immaginato che stanno anche un concerto di un'orchestra della Repubblica. Alla memoria. Cose, diciamo, in divenire, poi ci prepariamo a Natale. Non ci dobbiamo fermare, perché le ricchezze sul nostro territorio, come ad un'Igleta, non lo voglio dire, per uno, per sviolinare, qui c'ho sempre creduto, perché mi sono sentito parte di questa comunità, anche piancheggiando, a prescindere dai loro istituzionali, credo che vengono spinte dal territorio, che debbano essere governate da una politica intelligente, con un impegno non populista, ma nel valorizzare quelle che sono le prevenze. Mi viene da sorridere, perché? Perché adesso, adesso che è diventato un'istituzione, noi non gli possiamo chiedere, Giovanni, ci viene a fare, ci viene a fare un oretto, perché ormai, ormai, dobbiamo... Io il problema non ce l'avrei, sono gli odiatori da Facebook che hanno il problema, no, io lo credo. Le altre edizioni. Ok, il problema è... E' un'istituzione, ma no, è un'istituzione, E' un'istituzione che vengono, un'istituzione che ha sconato per noi, ha creato dei karaoke, ha fatto mandare le signore dell'Unitreccia, ha intrattenuto per ore e ore. Però adesso, sinceramente, non me la senti, mi vado a chiedere altre cose al vice sindaco Giovanni Diaccarina. Soprattutto, ti ringrazio di aver scappato del tempo, per dare il necessario saluto di inizio anno, per esempio che la tua benedizione è determinata. Siamo qua tutti, ma non siamo una laica ma è una benedizione laica. Siamo arrivati a dire che la cosa che è importante al di là di alcune delle proprie figlie, delle proprie orientamenti. Veramente l'augurio e l'impegno a dire siamo vicini a noi tre, in qualsiasi momento. Ripeto, questo è ancora un anno di transizione, mi auguro che possiamo poi fare una festa più importante l'anno prossimo. restituendo gli spazi che sono vostri, però voglio dire al di là di questo, di qualsiasi iniziative voi riterrete di condividere insieme, noi ci siamo, ok, ovviamente io parlo ancora a nome dell'amministrazione. Tu oltre che a ricoprire un grande ruolo adesso, sei anche un grande showman. La politica non solo sottrarre a quello che sono le passioni, perché la politica richiede un minimo di forma, che poi in politica diventa sostanza, perché io personalmente sto bene in altre vesti, anche in altre vesti. Spero, quando vedo il massimo delle mie capacità di amare questa città, e a tutti quelli che la vivono, questo è un po' di amare questa città che è legata alla destazionizzazione, che è legata alla conoscenza dei luoghi, perché le cose solamente se le conosciamo le incominciamo ad amare. Questa chiesetta di Santa Cortina è così tante, quindi è un'operazione. Torneremo a San Giovanni, che è un cappellino, che è sempre in ristrutturazione, uno dei casali più antichi di Piazzi, casali che per un sistema di viabilità moderna, come se fosse, a meno che non ci andate appositamente per andare a casa di un po' anche di uno, che abita lì, difficilmente si ci passa, perché è un'altra città di Giovanni, è un'altra città di Giovanni. Ah, certo, certo. Esatto, la chiesa la troviamo, in questa occasione la vedrete a me. E poi dobbiamo, c'è questa catacomba che hanno creato sotto la chiesa di San Gheri, ma vale la pena di vederla, perché vale la pena... Io non parlo con il priore della nera, quindi alle catture, ma teniamo la fetta che è il periodo del SvU, dove saranno già più raccolti, che è la musica di sacerdoti, perché i sacerdoti dell'Organzo, perché hanno un ruolo secondoritario, la cripta di San Michele, a cui non se ne porta a memoria nemmeno nei libri scritti, però stanno andando a fare i primi di cui tolta, ed è stata... Ma poi lì è stato un paolo di ricerca con la fine, di stato, c'è tutta una ricostruzione anche documentale. Sì, che è bellissima, che è bellissima, io ci sono stato, sì. E' stato fatto dei libri, che sono stato esposti, e io dico, è anche un paolo aggiunto, e poi secondo me dobbiamo fare un passaggio della nostra memoria, e secondo me ci dobbiamo fare. Ma la spesa è dove di San Giovanni, perché si è sempre... No, stavano facendo dei lavori, ma non finito, però è in cura come la Cappella di Santa Maria, come la Cappella della Libera, alla Congrega della Orazione, e l'apriremo in questa occasione. Poi è chiaro che era vero dei comici, vuol dire... Anche le persone... Sì, ma poi è proprietà ecclesiastica, che dà la fortuna da venire, d'accordo, ma non ha chiesto, quindi... L'accesso lo andiamo a chiedere al prete, il prete fa capo al parroco, il parroco fa capo a sua minezza, e invece, guarda, sì. Però, se non fosse per la fede dei cittadini, tante opere non si potrebbero mantenere. Cosa dobbiamo dire? C'è la fede, la donazione, di tanti, non solo appassionati, ma di tanti uomini e donne di fede, che fanno anche dei doni, dei lasciati, importanti. Altrimenti, le chiese non si mantendrebbero così. Bisogna sempre capire, un di là dello ius patronatus, eccetera, uno ius proprio della civiltà, dei cittadini che vengono viva in queste tradizioni, che è memoria per chi è laico e per chi è fede e per chi ovviamente ci crede. Per chi è fede e per chi ovviamente ci crede. Grazie a te.